Ben tornati al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Iniziamo subito dai principali titoli in edicola oggi, mercoledì 11 maggio. Partiamo come nostra abitudine dal mattino di Salerno. De Magistris, Lira di Renzi, il Premier replica le frasi sciocche del Sindaco, c'è chi insulta e minaccia, noi facciamo progetti concreti. Da lui attacchi indegni, caos e liste per il Comune, 12 restano fuori. E poi il caso, via libera Unione Europea, la manovra flessibile, ma il debito italiano è troppo alto. Al lato della prima pagina, Unioni Civili, al Via Lacei, una sconfitta, oggi la fiducia, Boschi, la legge va rispettata. Marchini dice non celebrerò legami gay. L'analisi, una legge che divide e crea nuove disparità. E poi al centro pagina, referendum, toghe in trincea, Davigo a Legnini, sulla partecipazione si pronuncerà il nostro parlamentino. Fumata grigia nell'incontro tra vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e il Sindacato dei Magistrati. Poi parte il festival nel manifesto La Casa dello scrittore, Cannes, nel segno di Capri e Malaparte. Poi le idee, il codice etico non rispettato. In fondo alla pagina, stroncata cellula Isis, Roma nel Mirino. Bari tre fermati, pronti a colpire, avevano le foto del Colosseo. Le interviste del mattino, sempre in fondo alla pagina, Sacchi, Napoli, Super, Insigne, vada via, Lorenzo per crescere deve cambiare. E passiamo subito all'edizione di Salerno e provincia, quindi andiamo anche in questo caso a leggere le notizie messe in risalto nella prima pagina del quotidiano. E andiamo quindi alla notizia che riguarda la rivolta degli operai dei rifiuti, protesta a sciocche dei lavoratori del consorzio di Bacino sul tetto della sede di Ostaglio. Subito gli stipendi o ci uccidiamo. Raccolta rischio, braccio di ferro sui conti, debiti per 6 milioni 40 comuni inadempienti. E poi la vertenza, fonderia Pisano, alto là del prefetto, prima la salute. L'occupazione, in piazza anche i forestali, due anni senza soldi. Al centro pagina, notizia che riguarda lo sport, la Corte federale Grazia e il Lanciano. Salernitana, la salvezza è più difficile. Sempre in questa prima pagina, fiumi di droga per i turisti, scacco alla gang del Cilento. Maxi Blitz, dei Carabinieri, nel Golfo di Policastro, dalla provincia di Napoli a Sapri, il viaggio dei Corrieri, carichi di cocaina, eroina e hashish. E poi il caso, trovato morto a 30 anni, giallo a Berlino. La politica, ce l'hanno Napoli, subito scontro sul confronto. E poi la scuola, iscrizioni flop alle elementari, via 54 cattedre. La sanità, ruggi, arrivano due medici, salva nefrologia. Infine le riflessioni, nelle classi in balia dei vandali, mortificati, anni di sacrifici. E addentriamoci immediatamente all'interno del nostro giornale, quindi andiamo a leggere le notizie già viste in prima. Andiamo alla politica a Salerno, le amministrative del 5 giugno sono sempre più vicine, le polemiche non si placano, anzi si potenziano. Celano allo scontro con Napoli, burattino dei figli di De Luca. Il candidato del centro-destra dice confronto, con lui è inutile. Sale di tono, la polemica dopo l'affondo del sindaco, avversari, il nulla. E poi in fondo alla pagina, Carpagna attacca il nostro competitor, protesi del governatore. L'ex ministro contro De Luca, Salerno vive bene solo chi obbedisce a lui. La leader benedice Zitarosa, con Celano sindaco, Peppe sarà assessore. E andiamo alla pagina a fianco, il retroscena, vendetta su Russomando, Carpinelli paga le spese. Lo schiaffo di De Luca per le scelte alle primarie PD. E poi la polemica, telecamere, scoppia la bagarra a Monte Corvino, bandiere della lista campagna, distrutte, polemica sulla flop, vigilanza. Un atto di vandalismo, un fallo in tempo di campagna elettorale, una polemica politica, ma la video sorveglianza sul territorio comunale funziona? Questa appunto è la domanda che si pongono cittadini e candidati del Paese. La curiosità ci riesce a fare gli veleni su Facebook contro ex camerati, si dicevano di destra, volevano invece una poltrona. E andiamo avanti, andiamo quindi sulla vertenza, operai sul tetto, subito gli stipendi o ci uccidiamo. Tensione nella sede del consorzio di Bacino, quattro in rivolta, tre mesi di paghi arretrate. Desistono dal gesto estremo dopo l'impegno di un tavolo con i municipi. Le gambe a penzoloni mentre erano seduti sul cornicione, gli occhi fissi nel vuoto, pieni della disperazione di chi è pronto a fare una sciocchezza. Questo appunto lo scenario che si è presentato nella giornata di ieri, proprio appunto nella sede del consorzio di Bacino, dove gli impiegati non ricevono soldi da ben tre mesi. Agroinvilico, corsa contro il tempo per sventare il caos. I comuni iniziano a versare le quote dovute al consorzio, pressing dei sindacati, il segretario della FIT Cisle Monetta, necessario chiarire le disponibilità delle risorse. E nella pagina a fianco abbiamo la scheda, comuni morosi, debiti del consorzio in rosso e braccio di ferro in tribunale per non pagare. Ha toccato quota 20 milioni il monte crediti vantato dal Corisa. E poi i sindacati, De Angelis, legge sbagliata, paralisi per troppi contenziosi. In fondo alla pagina ispettori ambientali, in campo la task force anti-incivili, 40 volontari in azione dopo il corso di formazione, così la cittadinanza attiva. Ed ecco la foto, il 007 in posa con il sindaco Napoli e Calabrese. Procediamo oltre e andiamo quindi al taglio di cattedra, quindi andiamo alla questione scuola, tagli di cattedra all'elementare, 54 posti in meno. In provincia un calo di ben 700 iscrizioni, ci sono anche 16 docenti di sostegno, allarme per i precari. Gli insegnanti, concorso dopo l'ok del Tarra, c'è anche l'Università di Salerno tra le sedi individuate dall'ufficio scolastico regionale per le prove di concorso dei docenti. Da una circolare si evince che l'Università di Salerno ospiterà domani le prove per i candidati della scuola di infanzia di sostegno, che hanno ottenuto un provvedimento cautelare finalizzato all'accesso con riserva al concorso. E poi l'avvertenza, senza stipendio da 21 mesi, ancora in piazza i forestali. Attacco a De Luca, la regione non è riuscita a risolvere il problema. La sanità, ruggi, arrivano due medici, nefrologia e salva, la carenza di personale aveva messo a rischio l'attività del reparto, poi l'intervento di Cantone, la deriva del commissario, rinnovato il contratto ad altri due specialisti. I numeri rappresentano un'eccellenza dell'ospedale, con oltre 500 ricoveri all'anno e 4.500 dialisi. Nella pagina a fianco, la questione ambiente, la questione fonderie Pisano, il monito del prefetto, fonderie, la salute prima di tutto. Malfi riceve i comitati alla prima volta. Incontro al palazzo del governo, i cittadini non sono impazziti, difendono i loro interessi. E poi il punto, mantenere gli equilibri, ma per l'impresa, la legalità è un valore assoluto. Il titolare dell'azienda intanto annuncia la querelle, gli attivisti non ci fa paura. In fondo alla pagina, la questione che abbiamo già letto sui giornali di ieri, i gradoni sfregiati in pieno centro storico a Salerno, rimossi gli scivoli, fai da te. Sopra il luogo dell'assessore De Maio e dei vigili, nel centro storico dopo la denuncia dei cittadini. Nessuno li ha autorizzati, via il cemento della scalinata per il giardino della Minerva. La beffa realizzati per far passare veicoli e motorini, ma dicono che servono per i disabili. Andiamo oltre, quindi procediamo con la lettura del giornale, andiamo alla notizia che ha colpito il Cilento, proprio in questi ultimi giorni. Il caso, trovato morto a 30 anni, giallo a Berlino. Federico era residente a Stio Cilento, il decesso domenica e i genitori informati soltanto ieri mattina. Cause ancora da chiarire, potrebbe essere stato vittima di un incidente. E poi la truffa, società fallita, beni trasferiti, sequestro da 17,5 milioni. L'inchiesta, via il giudice, rischio reset per il processo scarano. Magistrato trasferito, la difesa chiede lo stop, riascoltare i testimoni. E poi la storia, fumogeni nella caserma dell'arma, la festa del tifoso, finisce con il daspo. Nella pagina a fianco, otto colpi contro lo spaccio nel Cilento. Arresti domiciliari, divieto di allontanamento e ordine di prescrizione, i provvedimenti emessi contro i pusher. Golfo di Policastro, allarme per il consumo tra i minorenni. I guadagni di 500 euro al giorno, due di loro accusati anche di rapina. E poi la paura, marito violento, minaccia di bruciare casa. Adesso basta, insegno la casa, più volte litigi domestici sono culminati con questa grave minaccia. Il motivo per il quale un quarantenne di eboli è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Sempre in questa pagina, tre rapine in tre giorni presso il terrore dei market. Prendeva la merce dagli scaffali e alle casse intimidive ai dipendenti con un coltello. L'uomo di 35 anni era agli arresti domiciliari per furto e rapina. In fondo alla pagina, caffè nero per i clienti. L'hotel è sequestrato, pisciotta, sigilli al mare olivo per una difformità della licenza edilizia. La struttura attiva da dieci anni. Gli interventi concessi dovevano essere compiuti sull'antico monastero del paese. Procediamo oltre, quindi andiamo a battipaia e deboli. Battipaia, ancora una volta si parla delle comunali, delle prossime amministrative. Tutti a caccia dei voti 18, il pasticcio delle liste bocciate. Oggi l'ex leader CISL decide se presentare ricorso. Pressing sui candidati, ma rifondazione avverte, mai con i democratici. Ponte Cagnano, veleni sulle deleghe, tocca a Malandrino. Nuove accuse a De Vivo, neoassessore, moglie del gestore del Palasport. Sica sottotiro e il PD lo attacca sull'aeroporto. E poi ebboli, pusso e rapicchiato, identificati gli aggressori. La litorania, luogo di spaccio. Dopo il misterioso agguato, arrestato uno straniero. I tre sono del napoletano, un magrebino bloccato, con mezzo chilo di droga. Il marocchino di 31enne si era nascosto in pineta con l'ascis da vendere. Battipaia, ancora una volta, lì di balneari fuori legge, scattano di nuovo i sigilli. E poi andiamo nel Cilento e Ballo di Diano. Capaccio, bagniere blu, bottino pieno con 12 vessilli. Oggi a Roma, i riconoscimenti, San Mauro, la new entry. E poi Trentinara, la vice sfida il sindaco al comune con le ali. E passiamo a questa volta a un altro quotidiano della provincia di Salerno. Andiamo quindi alla città di Salerno. Andiamo a leggere la prima pagina e le notizie in essa contenute. Al centro, coca e asciscia i ragazzini presi. I carabinieri sgomminano una banda di pusher nel golfo di Policastro. Il giudice inguaia la Salernità, nella notizia di sport, nel taglio alto, restituiti tre punti a Lanciano. Adesso si complica la strada per la salvezza. Ciclismo, il Giro d'Italia passa nel Diano. Ulissi trionfa a Praia, mare. Poi l'intervista. Liberti riapre la porta. Tornare, mai dire mai. Al centro pagina, musulmana d'Italia. Floriana, la salernitana, convertita all'Islam. All'interno, Pisciotta, Abusi e Edilizi, il mare Marulivo sotto sequestro e poi Vallo della Lucania. Caso Mastro Giovanni è rinviato il processo. Rischia prescrizione. Andiamo verso le elezioni a Salerno, Mara Caffagna, Napoli e il burattino di De Luca. E poi terrorismo, tutti i rischi per l'Italia. I giovani, il voto è il ventennio. E quindi andiamo all'interno del quotidiano, andiamo a leggere le notizie. Verso il voto a Salerno, Napoli e un burattino nelle mani di De Luca. Questo appunto è il pensiero di Mara Caffagna che infiamma la campagna elettorale e attacca il governatore. La città non può diventare un feudo da tramandare di padre in figlio. L'ex ministro ieri sarà a Salerno per sostenere il capolista di Forza Italia al comune Giuseppe Zitarosa. Nella pagina a fianco andiamo invece alle elezioni a battipaglia. Liste di sciotti escluse, ancora nessun ricorso. C'è tempo fino a domani per presentare istanza al Tribunale Amministrativo e intanto fanno discutere le dichiarazioni contro i dipendenti comunali. Andiamo oltre, quindi sempre verso il voto. Un team senza primi della classe nella lista di Fratelli d'Italia. Non ci sono consiglieri uscenti. Cuozzo, una scelta precisa. E poi in Ocera, il paese cade a pezzi. L'ex sottosegretario è candidato a sindaco. Da Berlusconi a Mastella ora è civico. Non comprendo la scelta di carpentieri, il suo è soltanto un capriccio personale. C'è bisogno di persone capaci. Il territorio ha bisogno di una ripresa economica. Andiamo subito oltre. Andiamo al caso Fonderie Pisano a Salerno. Gli attivisti avvertono i candidati. Siamo pronti a occupare i seggi. Ultimatum del Comitato Salute e Vita per chiedere soluzioni definitive sull'episano. Appello ai commercianti, saracinesche abbassate, foto su Facebook durante il corteo di sabato. Domani scadono i 15 giorni assegnati dalla Regione per replicare agli ultimi rilievi ed evitare un nuovo stop alle attività. Lorenzo Forte, le minacce non ci fermano. Se l'impresa intende fare causa contro di noi vorrà dire che ci vedremo nelle aule di tribunale. E poi ARPAC e Procura affermano che l'impianto è ancora fuori legge. Se la proprietà intende presentare una querela deve farlo nei confronti di queste due autorità. E poi dal prefetto e portavoce dei residenti. Ieri l'incontro Malfi promette vigileremo sull'operato degli enti per garantire la legalità. Andiamo avanti, andiamo quindi alle proteste sul lavoro. Il consorzio non paga, operaio tenta il suicidio. I dipendenti della Salerno 2 senza certezze da tre mesi non ricevono soldi. Oggi in prefettura l'incontro per discutere del passaggio a Salerno pulita. Raccolta di oli e sausti poi in due piazze. Arrivano 30 nuovi ispettori ambientali, non possono fare multe ma devono educare al decoro della città. C'è anche qualche pensionato. Nella pagina a fianco torna in piazza la rabbia degli idraulico forestali. Stamane presidio a piazza Mendola, promossa dalle organizzazioni sindacali, i ritardi nel versamento degli stipendi vanno dai 10 ai 21 mesi. La situazione più difficile è quella dei dipendenti della comunità Irnosolofrana, ma che è in servizio negli altri enti montani. Non se la passa meglio. Dalla regione intanto si attende una riforma dell'assetto legislativo che non è stata ancora avagliata dall'Aggiunta, nonostante le promesse del presidente De Luca. Andiamo oltre. Gli scivoli nel centro storico di Salerno erano abusivi. Cominciata la rimozione. Vigili urbani, tecnici e l'assessore De Maio, ieri in via Ferrante San Severino, in molti sui social, puntano il dito contro i residenti che non hanno denunciato. Nella pagina a fianco, la storia che abbiamo già visto in prima, vi spiego perché ho scelto Allah. Floriana Vassallo, 22 anni, è salernitana e si è convertita all'Islam nella comunità musulmana e ha conosciuto il marito. La mia famiglia non è contenta di questa decisione radicale, ma sono stata fortunata, non mi ha ostacolato. Ero Atia, dice, due anni fa mi ha illuminato un versetto del Corano, porto il velo per un atto di fede e non mi sento sottomessa come donna. Il terrorismo, dice, non ha nulla a che vedere con la nostra religione, le guerre sono politiche strumentali, al sud c'è ancora più diffidenza che al nord. Infine, passiamo invece alle notizie che riguardano il Cilento e il Vallo di Diano, andiamo quindi a Capaccio, sicurezza nei Lidi, i gestori promuovono le nuove disposizioni. Procedure più snelle per operatori del soccorso e assistenza, cambiamenti anche per i bagnini e i gestori promuovono i limiti alla balneazione. Agropoli, case popolari di Frascinelle consegnate agli assegnatari e poi Roccadaspide, non toccate il nostro ospedale, la regione taglia il plesso di Roccadaspide, le lettere di pazienti e familiari. Nella pagina a fianco, la notizia che abbiamo già visto in prima pagina, spacciavano la droga anche ai ragazzini, scattano otto ordinanze, i carabinieri bloccano la rete di pusher nel Golfo di Policastro. Asci, sceroine, coca, fiumi, trasapri, vibbonati e Santa Maria. L'allarme degli inquirenti, la prima sniffata da appena 15 anni, raffica di perquisizione e numerose segnalazioni di minori alla prefettura per l'uso di stupefacenti. Infine, trasporti, alta velocità, bus per collegare Salerno al Cilento. Poi sala Consilina, condoni edilizi, il comune incassa 5 milioni di euro. Abusi edilizi, sigilli al resort dei VIP, sotto sequestro il Marulivo di Pisciotta, i clienti trasferiti in altri alberghi. Infine, in fondo alla pagina, il caso Mastro Giovanni, processo in bilico, la morte del maestro, slitta la sentenza, c'è il rischio di prescrizione. Per oggi la nostra rassegna stampa si conclude qui, l'appuntamento è per domani, sempre a quest'ora, sempre su questo canale. Vi auguro una buona giornata e una buona continuazione di programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.